Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle sette che scoccano in questo istante, questa è la rassegna politicamente scorrettissima della verità. È lunedì e ci ritroviamo dopo un weekend atroce, atroce sul piano dei fatti, nel senso che nel fine settimana la progressione dei contagi è cresciuta e anche quella dei decessi, portandoci nell'una e nell'altra triste classifica al secondo posto, addirittura scavalcando la Corea del Sud, ma atroce anche nella forma per il pasticcio incredibile combinato dal governo con il DPCM uscito in bozza intorno alle 20 di sabato, illustrato, si fa per dire, alle due di notte di domenica da Conte, contestato dalle regioni che emerge, non sono state sentite nella fase di elaborazione e chiusura del testo. Caos totale che vedrete sarà aggravato da una incredibile intervista di oggi su Repubblica del Presidente del Consiglio. Ci arriveremo in corso d'opera e quindi anche un invito ad ascoltarci, ci arriveremo dopo un quarto d'ora abbondante di rassegna. Prima il quadro delle aperture che abbiamo selezionato per voi. La verità, un commissario contro i danni del governo. Il decreto di autocuarentena arriva dopo ore di sbando per Conte e un presidente di Coccio. Risultato? Migliaia di persone in fuga verso il sud e virus propagato. Per gestire l'emergenza e far stare a casa le persone ci vuole un decisore come Bertolaso e vedremo questo titolo e sommario sintetizza le editoriali di Maurizio Belpietro dal quale partiremo. È abbastanza incredibile l'apertura del fatto quotidiano che se la prende con i presidenti delle regioni. Porte chiuse, bocche aperte, nelle regioni tutti contro tutti, fughe di notizie sul decreto della Lombardia e fughe di persone verso sud. Peccato che nonostante un tentativo maldestro di attribuire la colpa all'ufficio stampa della regione Lombardia questa operazione di scaricabarile sia fallita. La sinistra aveva provato a usare un pezzo di una nota della CNN in cui effettivamente si evocava l'ufficio stampa della regione Lombardia. Ma prima la CNN faceva riferimento a un close advisor, a uno stretto consigliere di uno dei ministri partecipanti alla riunione governativa. Solo poche ricche dopo si diceva Olso, cioè anche dalla regione Lombardia. Ma non basta, in tardissima serata, questi giornali non fanno in tempo a registrarlo, la CNN ha scritto al presidente Fontana, di fatto scusandosi, e dicendo no, noi abbiamo chiesto alla regione Lombardia solo conferma della bozza che già girava. Quindi di tutta evidenza il leak è attribuibile a Palazzo Chigi come responsabilità di fondo. Però il fatto la mette così. Vedremo anche l'editoriale di Travaglio che se la prende con gli italiani, immaginate con chi altro. Il giornale. Adesso chiudiamo questo governo. Allo sbando. Così il titolo. Vedremo l'incipit dell'editoriale di Sallustri. Il Corriere della Sera. Il virus avanza. L'ite sui divieti. E poi ancora la stampa. State a casa o fermiamo l'Italia. Come frase attribuita sinteticamente agli epidemiologi. Perché il rischio è che a questo punto le misure più stringenti debbano essere estese tra qualche giorno a tutto il territorio nazionale. Una specie di coprifuoco complessivo. E infine Repubblica con un virgolettato. In questo caso le parole sono di Giuseppe Conte. Intervistato da Stefano Cappellini. Cara Italia, l'ora è buia ma dobbiamo farcela. Ed ha il coraggio Conte di evocare Churchill. L'ora più buia. Ci vuole veramente tanto coraggio. Approfitta del fatto che per evidenti ragioni Churchill non possa querelare e difendersi. Allora questo è il quadro. Partiamo da Maurizio Belpietro. Siamo sulla prima della verità. Bisogna restare a casa. Se il governo avesse spiegato quello che c'era da spiegare a proposito dell'epidemia che sta mettendo in ginocchio l'Italia e il mondo, il mio articolo si potrebbe anche chiudere qui. Perché altro da aggiungere non ci sarebbe. Purtroppo la politica, e ai noi anche qualche presunto esperto, di pronunciare il semplice e perentorio invito a mettersi in autocuarentena per una settimana o un mese non ha avuto il coraggio. Fino all'ultimo si sono preferiti i messaggi tranquillizzanti e consolatori, preoccupandosi più di non diffondere la paura che di fermare il contagio. Il risultato è che anche di fronte a un aumento esponenziale dei malati e alle notizie allarmanti che arrivano dalle corsie degli ospedali, molte persone continuano a non assumere, spiega Belpietro, le precauzioni necessarie a evitare la diffusione del coronavirus. Poi andiamo alla conclusione politica di Belpietro che, ed è un inedito, si trova d'accordo con Matteo Renzi. Come i lettori sanno non sono un estimatore di Matteo Renzi, ma pur sapendo che il fondatore di Italia Viva quando fa una proposta cerca spesso visibilità, non posso che appoggiare una sua idea. Affidare a Guido Bertolaso l'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. L'ex commissario della protezione civile non è un virologo e neppure un medico, ma è un uomo a cui non manca la determinazione. Qualche giorno fa avevo sollecitato il governo ad affidare pieni poteri a un commissario straordinario. Ci vuole una figura che non ci incischi, che non debba contrattare un decreto legge per 24 o 48 ore e che nemmeno debba rendere conto delle spese autorizzate per comprare i macchinari che servono per salvare vite umane. Non è ora di aste al minimo o al massimo ribasso e nemmeno di concorsi per assumere personale. È l'ora delle decisioni e le decisioni non le può assumere un presidente di coccio come Giuseppe Conte. Così, Maurizio Belpietro, colgo l'occasione per ricordare che la verità oggi fa uno sforzo davvero notevole, perché per un verso c'è tutta l'informazione che immaginate e che poi via via scorreremo segnalando almeno quattro pezzi sull'emergenza coronavirus. Ma poi c'è anche tutta la parte, diciamo, del numero settimanale a cui i lettori della verità sono abituati il lunedì. Approfondimenti, dunque, che però sono tutti legati al coronavirus. Quattro interviste. Luca Telese, che sente il sottosegretario Grillino Villarosa e dice vogliamo 20 miliardi. Federico Novella, che sente Clemente Vastella, che dice guardate che se il virus arriva al sud è un disastro. Stefano Filippi, che sente il professor Giulio Sapelli, che si lamenta non solo dello stato della sanità italiana, ma diciamo del comportamento delle classi dirigenti, anzi non dirigenti italiane in tutti questi anni. E infine Patrizia Floderreiter, che sente il direttore della nuova bussola quotidiana Riccardo Cascioli, che allarga lo sguardo anche al comportamento della chiesa bergogliana, al cedimento della chiesa bergogliana al regime cinese, diciamo mettendo in mezzo e abbandonando a se stessi i cristiani cattolici che stanno in Cina. Questo dunque è il caldo invito, quando questa ressegna sarà finita ad andare in edicola a prendere la verità. Adesso la parte più brutta della ressegna che è quella dei numeri. I positivi complessivi, quindi i contagi complessivi, sono arrivati a 7.375. Tenetevi forti perché in un solo giorno, ieri, ci sono stati 1.314 contagiati. Quindi capite che la progressione non sembra destinata ancora per giorni ad arrestarsi. Attenzione, i ricoverati sono 3.500, quindi si conferma che 1 su 2 finisce in ospedale. I morti sono 366, solo ieri 133 e attenzione perché la percentuale schizza al 4.9 dei contagiati. In abbiamo tristemente superato la Corea del Sud sia per i contagi che per i decessi. Allora, andiamo a spostare la nostra telecamera sui fattacci politici del weekend. Il giallo del decreto, il pasticcio combinato da Conte e dalla sua squadra. Quattro segnalazioni dalla verità. Francesco Borgonovo, ed è la seconda notizia più rilevante nella prima pagina, con foto del governatore Zaia, Zaia guida i rivoltosi nelle aree del nord, manca la fiducia in Roma e si dà conto di come i governatori, Zaia, Fontana, Federica, eccetera, non siano stati sentiti. Zaia in particolare si è ritrovato con tre province venete che erano nella bozza del decreto, incluse in questa specie di zona, come dire, giallorossa-arancione di questa zona a rischio ridefinita dal governo. Zaia ne aveva chiesto lo stralcio e invece, senza essere avvisato, le ha trovate confermate come inclusione. Chi vi parla, che fa un pezzo, pagina 2, tutto sulla cronaca minuto per minuto del decreto e, lo dicevamo nel sommario, il tentativo patetico di attribuire la colpa del leak, della fuga di notizie, ad altri. Invece la CNN ha smontato tutto questo, quindi parliamoci chiaro, al di là di questa specifica vicenda, il tema è la coppia Conte-Casalino che ha fatto un naufragio in tutta questa situazione. Alessandro Rico che racconta tutta la vicenda dell'assalto ai treni e quindi della quantità di persone che hanno provato nella serata di sabato. Tenete presente che la notizia della bozza circola dalle 20 di sabato. Fino alle 2.20 di notte c'è stata incertezza assoluta, che per la verità si è protratta anche dopo le parole del Presidente del Consiglio, è evidente che tanti, tantissimi, più o meno razionalmente, più o meno giustamente, hanno provato a tornare a casa, non sapendo se nel decreto questo sarebbe stato poi consentito. Quindi questo anche va capito. Alessandro Rico racconta anche le reazioni dei governatori del Sud, che comprensibilmente hanno chiesto a chi torna di mettersi in quarantena. Quello che non è comprensibile sono i toni usati per esempio da Emiliano, toni, starei per dire, razzisti nei confronti del Nord. E infine, ma vorrei dire che è la questione economicamente più grave il pezzo di Camilla Conti sulla questione delle merci, perché fino a un chiarimento giunto nel pomeriggio di ieri sulla base della sollecitazione del mondo produttivo, di Confindustria, eccetera, non si capiva se questo divieto di circolazione riguardasse solo le persone fisiche o anche le merci. Poi è stato chiarito che le merci possono circolare, ma spiega Camilla Conti qual è la sorte degli autotrasportatori. Ok, possono trasportare, ma poi che devono fare? Si devono mettere in quarantena. Dopo qualche giorno l'intero sistema dell'autotrasporto rischia di essere messo fuori gioco. Quindi vedete quattro pezzi sulla verità che vi aiutano a capire la situazione. Dimenticavo di dire che nella conferenza stampa Conte ha coniato anche giuridicamente una formula allucinante, che è quella del divieto non assoluto. Quindi sostanzialmente uno deve autogiustificarsi se viene fermato a campione dalle forze dell'ordine. Ci sarebbero tre giustificazioni, e cioè esigenze di lavori indifferibili, stato di necessità o diciamo ragioni di salute, però non si capisce bene come questa giustificazione debba avvenire, può avvenire per via orale, quindi si tratta di capire se il poliziotto si accontenti, però può scattare la denuncia. Insomma, è una situazione caotica. Caos anche, lo raccontano tutti i giornali, ecco, per comodità, lo prendiamo dal giornale a pagina 14, nelle carceri, non solo per i rischi di diffusione del virus, ma anche per la decisione di bloccare le visite dei familiari. Proteste violente in diverse carceri, Modena, Pavia, Salerno, Poggio Reale, Cassino, Frosinone. Cristina Bassi racconta molto bene una realtà inquietante, un'autentica polveriera. I casi più gravi sono Modena, dove ci sono stati dei morti, e a Pavia, dove ci sono state delle guardie sequestrate e dei tentativi di fuga. Una situazione assolutamente fuori controllo. Non dispiace al governo, non c'è da parte nostra nessun accanimento, ma anche rispetto alla vita concreta delle persone, non aiuta quello che il vice ministro della salute Sileri dice al Corriere della Sera, Fabrizio Caccia. È una pagina utile per come era stata concepita, cioè lavoro, famiglia, quali deroghe sono ammessi, i dubbi principali, una specie di casistica per aiutare la persona a dire ma nel mio caso cosa posso fare? Il problema di Sileri è che entra in una specie di casistica un po' così casuale e incerta. Sottolinea Sileri, attenzione in caso di dichiarazione autocertificazione mendace scatta la denuncia. E poi dice che cosa posso fare? I parenti malati sì, se abito in un'altra città e ho una mamma di 90 anni posso andare. Se i miei genitori pur anziani stanno bene? No. La fidanzata? No. Voi capite bene che se entriamo in una dinamica di questo tipo in cui ogni sfumatura può stare più di qua o più di là siamo alla assoluta incertezza del diritto. Assoluta incertezza del diritto e ditemi voi poi come può funzionare il meccanismo di controllo, il meccanismo sanzionatorio. È sufficiente spostarsi di qualche pagina sul Corriere della Sera e si smette di scuotere la testa solo per il caos? Ci si angoscia davvero per la situazione che si sta prospettando negli ospedali. Il primo quotidiano a farlo è stato per due giorni consecutivi meritoriamente il giornale che ha pubblicato anche un documento degli anestesisti, un documento che non era segreto ma di cui evidentemente alcuni non avrebbero voluto la circolazione in cui si diceva ma qui saremmo costretti a scegliere in una situazione in cui i posti in rianimazione sono limitati. Purtroppo questa tragica realtà viene confermata a Marco Imerisio da Cristian Salaroli, anestesista e rianimatore a Bergamo. Andiamo a vedere il passaggio più triste. Esiste una regola scritta? Al momento, nonostante quello che leggo, no. Per consuetudine, anche se mi rendo conto che è una brutta parola, si valutano con molta attenzione i pazienti con gravi patologie cardiorespiratorie e le persone con problemi gravi alle coronarie perché tollerano male, ovviamente la mancanza di ossigeno acuta e hanno poca probabilità di sopravvivere alla fase critica. Nient'altro, domanda chi fa l'intervista e risponde il dottore. Se una persona fra gli 80 e i 95 anni ha una grave insufficienza respiratoria, verosimilmente non procedi. Ripeto, verosimilmente non procedi. Se ha una insufficienza multiorganica di più di tre organi vitali, significa che ha un tasso di mortalità del 100%. Ormai è andato. E il giornalista insiste, lo lasciate andare? E il dottore risponde nel modo più triste. Anche questa è una frase terribile, ma purtroppo è vera. Non siamo in condizione di tentare quelli che si chiamano miracoli. Questo è il quadro. E poi un'esortazione che è resa particolarmente amare e credibile da queste premesse a chi sta fuori dicendo voi non sapete cosa sta succedendo negli ospedali. Per questo ho deciso di parlare con lei. E anche altri quotidiani raccontano la pressione che sta diventando sempre meno sostenibile negli ospedali. Peraltro nella Lombardia, regione che è benchmark più elevato insieme al Veneto, lo racconta Chiara Baldi sulla stampa. Quelli che prima salvavamo ora muoiono. Gli ospedali lombardi verso il collasso. E si racconta in turni massacranti, la pressione insostenibile e da questo punto di vista il fatto che delle situazioni che potevano essere recuperate per i capelli qualche giorno fa oggi rischino di sfuggire. Va bene, vi abbiamo dato un quadro particolarmente inquietante. Andiamo al riflesso politico dopo la prova obiettivamente imbarazzante fornita dal governo. Abbiamo già visto nel pezzo di Maurizio Belpietro l'evocazione di Bertolaso. La raccoglie in un retroscena Monica Guersoni dicendo che la maggioranza, il Corriere della Sera, ragiona su questa ipotesi. Però il tema è che nel retroscena della Guersoni sembra più concepito come un affiancamento, come una figura in più. Forse invece qui il tema è proprio valutare se il presidente del Consiglio sia in grado di gestire la situazione. Oggi lo spiega molto bene il direttore di Atlantico Federico Punzi nel suo commento online volendo una sostituzione al presidente del Consiglio si può fare in 12-24 ore. Il presidente della Repubblica chiede a Conte di dimettersi, incarica un'altra figura che in mezzagiornata riceve la fiducia delle Camere. Quindi non si tratta nemmeno di negare che questo sia possibile. Francamente lo diciamo senza polemica, leggere l'intervista che Conte rilascia a Repubblica dovrebbe incoraggiare i decisori a accompagnarlo al più presto alla porta. Stefano Cappellini che lo sente, che pone le domande e Conte come vedrete, non risponde se non con circollocuzioni vaghe. Sentitelo sulla storia del leak, della fuga di notizie. Chi ha fatto circolare all'esterno la bozza del provvedimento ha compiuto un atto irresponsabile perché l'indebita diffusione del testo non definitivo ha causato confusione e incertezza presso i cittadini. Domanda. Quindi non è stato Palazzo Chigi a far trapelare questa bozza. Assolutamente no. A tarda sera, quando la bozza è stata inviata, come prevede la legge ai ministri, ai presidenti e alle regioni, ci siamo ritrovati con un paese che discuteva di misure provvisorie su cui io stesso mi ero riservato di effettuare valutazioni. D'ora in poi adotteremo contromisure severe affinché situazioni del genere non si ripetano più. E questo è francamente comico perché la prima ansa è delle 19.33. Quale tarda sera? Le edizioni online dei quotidiani Corriere Repubblica danno le notizie alle 20.15 alle 20.30. Tutti quelli che erano nel circuito mediatico e politico, chi vi parla ha ricevuto da più persone, da più fonti, messaggini, whatsapp con la bozza. Non scherziamo, se Conte avesse voluto avrebbe potuto già alle 20.15, alle 20.20 davanti alla diffusione di un testo dire. Smentisco, correggo, do la versione esatta. Avrebbe potuto fare chiarezza, cosa che non ha fatto. E invece si è ripresentato in conferenza alle due di notte. E allora torniamo a Cappellini che giornalisticamente glielo chiede. Riandrebbe in conferenza stampa alle due di notte? E vedete la risposta di Conte. Lavoro fino a tardi ma non amo le conferenze notturne. L'altra sera è stato un caso particolare. Dopo la confusione generata dall'indebita anticipazione ho ritenuto necessario che il paese a risveglio potesse ascoltare una voce chiara e sincera. No, ragazzi, però la presa in giro è francamente troppo. Cioè, anziché dare la versione esatta appena possibile, smettendo le voci circolate, correggendole, mettendo il paese nella direzione giusta, questo ci prende in giro e dice che ha parlato alle due di notte affinché a risveglio gli italiani potessero sapere le cose come stanno. E francamente, se non parlassimo di cose tragiche saremmo nel territorio del comico. Dopodiché viene sentito sulla questione Bertolaso e anche qui la risposta è un po' una vaga supercazzola. Stiamo affrontando un'emergenza con cui l'Italia, quantomeno nella sua storia più recente, non si è mai confrontata. Sono risoluto a ricorrere a qualsiasi mezzo per proteggere i cittadini e sicuramente potenzieremo la squadra. Così Conte che poi dà una notizia e gli si dice c'è l'ipotesi di rinviare anche le regionali, al momento non sussiste uno scenario di questo tipo. Così l'incredibile intervista di Giuseppe Conte. Allora siamo entrati negli ultimi dieci minuti della rassegna stampa, abbiamo visto i fatti dei flash sulle situazioni sanitarie, il ricasco politico, è il momento di vedere quattro o cinque commenti che abbiamo selezionato per voi, oltre naturalmente a quello con cui già abbiamo aperto la rassegna, come facciamo ogni giorno, di Maurizio Belpietro. Considerate il commento di Belpietro e poi gli altri che stiamo per evocare. Quello che ci ha convinto di meno non dispiaccia alla direzione del fatto quello di Marco Travaglio che oggi sembra assolvere il governo e colpevolizzare tutti gli altri. La leggenda autoconsolatoria degli italiani brava gente, del paese che reagisce serio, responsabile e compatto come un solo uomo al coronavirus è andata in mille pezzi l'altra notte con la felliniana prova d'orchestra delle cosiddette classi dirigenti e della presunta società civile. In poche ore quasi tutto il patrimonio di credibilità che avevamo accumulato nelle ultime settimane, grazie alla sobrietà, all'equilibrio e alla trasparenza del governo, alla collaborazione responsabile di una parte del centrodestra e delle sue regioni del nord, ma soprattutto all'impegno sovrumano di medici, infermieri eccetera, è finito in fumo per colpa di qualche migliaio di sciagurati che hanno restituito dell'Italia la sua immagine più macchiettistica e caricaturale. Matteo Salvini con una cinquantina di post e tweet sciacallava su tutto, perfino sulle rivolte carcerarie. E un altro premier fortunatamente mancato, Cottarelli, faceva lo spiritoso sull'isolamento della Lombardia. Intanto il vero premier Giuseppe Conte, dopo un lungo e drammatico consiglio dei ministri intervallato dai negoziati con le cinque regioni, era costretto ad annunciare le misure definitive in piena notte. Eccolo, vedete, quello serio e poi invece la società civile che fa schifo, Salvini cattivo eccetera, questa purtroppo l'impostazione di travaglio e purtroppo prosegue così sul leak. Sappiamo anche chi può averle diffuse tra le poche istituzioni che ne erano in possesso, non Palazzo Chigi che ne è stato la prima vittima, ma qualche ministro o funzionario che mal tollera la popolarità e credibilità del premier e vuole sfregiarlo e gli uffici di qualche regione magari per far dimenticare le boiate di qualche governatore. Così tra l'altro travaglio che scrive sempre in modo scintillante ma appare davvero deludente nel suo tentativo di difesa del governo veramente oltre ogni ragionevole limite. Sul versante opposto è invece più convincente Alessandro Sallusti di cui basterà leggere l'incipit per metterci ancora più al riparo dal virus andrebbe chiuso oltre alla Lombardia anche questo governo. Così Sallusti mi pare difficile dargli torto. Più diciamo così vago e sociologico, non che dica cose inesatte per carità, ma insomma siamo nel repertorio così del commento salottiero il Corriere della Sera Antonio Polito. Nessuno sfugga, non si vive di soli diritti, stanno sbagliando i nostri giovani, nelle famiglie è difficile convincerli a non uscire la sera e ordinarglielo non sappiamo più perché la nostra generazione di genitori è stata la prima a ribellarsi ai padri ma anche la prima a obbedire ai figli. I ragazzi si sentono invulnerabili e sottovalutano quanto possano vulnerare chi è più debole di loro, ma è colpa nostra. Abbiamo detto per settimane che morivano solo vecchi e malati, che non c'erano da preoccuparsi e ora chiediamo loro il coprifuoco. Però appunto bisognerebbe elaborare questo aspetto quando il sindaco di Milano dice a Milano non si ferma, riaprite Milano, quell'altro Zingaretti fa gli aperitivi, insomma sono stati in tanti in queste settimane dare un segnale di ripartenza. Il tono moraleggiante da preside che diciamo si rivolge agli studenti è anche quello consueto di Luigi Laspina sulla prima della stampa, allo Stato servono i cittadini, sempre questo gioco di descrivere i cittadini come minorenni, minorati eccetera, ma naturalmente l'Oscar in questo senso lo vince, lo sapete già, Francesco Merlo sulla prima di Repubblica, poi il pezzo gira nella pagina dei commenti. Ecco, ma torniamo ai fratelli terroni del sud ancora sano che vogliono giustamente fermare il più pazzo degli 8 settembre italiani, quello dei terroni del nord, virgolette malato, che se la danno a gambe, non comandanti all'aschettino ma quasi tutti i ragazzotti, per lo più di buona famiglia, intontiti dal pericolo e dalla propria inadeguatezza civile davanti all'emergenza. E poi inevitabile Simmenapole Paisà, eccetera, e tutte queste belle cose, ma vedete come si va a concludere. E purtroppo solo dal nostro sud gli italiani respingono gli italiani come fratelli, perché, come dicevamo all'inizio, nel resto del mondo li rifiutano come schiuma della terra. Dall'Austria all'India, dalla Tunisia alla Cina all'America, siamo untori portatori di miasi, attenzione, proprio come, secondo il sovranismo di Salvini e Meloni, lo erano i nigeriani fino a un mese qua. Ora tocca a noi infected Italians. Ecco, così siamo riusciti, diciamo, a chiudere il cerchio dicendo che la colpa è di Salvini e Meloni razzisti. Come chiude il cerchio Francesco Merlo? Voi lo sapevate già, ma diciamo lui vi ha tolto i dubbi. Non va bene per niente, ma il nostro tempo è finito, manca un minuto solo per segnalarvi che a un paese già ferito, piagato, impaurito, siccome le disgrazie non arrivano mai da sole, arriva anche tra capo e collo il nuovo libro di Walter Veltroni, Odiare l'odio. E quindi tutta la cosa, il razzismo, le fake news, gli haters, gli odiatori, c'è tutto. Naturalmente, come accade in questi casi, partono le paginate, diciamo, di presentazione. Essendo un gentiluomo, la persona che sto per citare sembra più in imbarazzo Pierluigi Battista sul Corriere della Sera, che un po' è come se dicesse al lettore, ripeto, con l'eleganza che gli appropria, ragazzi, il libro è dell'Arizzoli, il Corriere di RCS, eccetera, tocca farla questa pagina. Battista sul Corriere. E invece, stentorio ed entusiasta, Massimo Giannini su Repubblica. Ecco, proteggetevi, io v'ho avvisato, poi naturalmente le decisioni, come si dice, in autonomia le prendete voi. Ci siamo presi un sorriso in una giornata in cui da sorridere c'è molto poco, il nostro tempo è finito, vi ricordo l'invito a passare in edicola a prendere la verità, noi ci risentiamo questa sera alle 19. Buona giornata a tutti.